Il pallone tagliato con gocce che arriva di testa, segna il suo primo gol in Serie A e pone già la partita, 1-1 Il pallone tagliato con gocce che ha avuto un impatto importante nel nostro campionato Il pallone tagliato con gocce che ha avuto un po' di Il pallone tagliato con gocce che ha avuto un po' di Il pallone tagliato con gocce che ha avuto un po' di fuoco a due Grazie a tutti